Siamo a cucinate con flutto. Questa qui riguarda più o meno lo spoiamento e cucinatura, o meglio ancora pulitura di un coniglio. Per prima cosa bisognerebbe strappargli la pelle. Il coniglio ha due pelli, quindi abbastanza... ha due pelli in sostanza, una interna e una esterna, quindi non è troppo difficile levarla. Zoom sull'azione. E poi va sveglata anche la parte posteriore della coscia, infilando un dito nella parte posteriore dell'articolazione del girocchio del colino. Stricolare, lo strappamento totale. Normalmente, assieme alla coda, viene via anche il pezzo finale dell'intestino. Grazie. 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 Dai, eccoci siamo. No, che ci sta strappando. No. Dai dei giri di testa. Potete ammirare la pelle in tutto il suo mitico splendore. No, buttalo via. No, buttalo via. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.